Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 17 allora siamo qua 15 agosto 2017 siamo nel carciomercato estivo questa bella seconda parte del carciomercato e come vi dissi nel precedente episodio probabilmente in questo video qua ci saranno delle forze e delle sorprese per quanto riguarda il carciomercato che comunque non abbiamo ancora terminato il carciomercato abbiamo un po' di soldi da parte e probabilmente qualcosa può succedere io non vi dissi niente solamente per tenere questa cosa per questo video qua ma in realtà proprio 15 è arrivata l'email che praticamente Dembélé ha accettato la nostra offerta ovvero per quanto riguarda il trasferimento 15 milioni più i turbi e per quanto riguarda invece lo stipendio 52 mila euri in realtà più o meno è lo stipendo che aveva anche i turbi quindi cambia un po' a livello di budget e stipendi qui detto questo subito partiamo così a molla partiamo con una new entry importante perché Dembélé se non sbaglio se magari qualcuno non lo sapesse è considerato uno dei giovani più promettenti del gioco e quindi niente abbiamo sistemato anche abbiamo diciamo un po' cambiato il discorso esterno-destri perché a posto di esserci i turbi che fra l'altro lui è un esterno-alto-destro ci va Dembélé che oltre ad essere un esterno-destro e quindi è coerente con il ruolo è anche qualitativamente più forte e spero anche che possa essere anche sul campo che di solito magari non è così vedi tra parentesi Correa che è stato un mezzo flop e fra l'altro Correa perché non lo sapesse l'abbiamo venduta a United per poi prendere con metà dei suoi soldi più 6V giocatore tornato dal prestito Gabriel Barbosa dall'Inter che anche lui c'è 81 e non è male anche lui è abbastanza promettente fra l'altro perché non lo sapesse tanto il malodio abbiamo anche preso un esterno-sinistro che è Bailey Bailey che già lo volevo il precedente anno non ce la fece a prendere più via dei soldi mancanti e invece stavolta ce l'abbiamo fatto guardate anche la velocità questi ragazzi volano e fra l'altro anche lui è molto promettente e poi vabbè c'è Vizze che... no io sto facendo il risultato generale della situazione dal precedente anno a questo perché non avesse visto il video precedente tra l'altro c'è anche Vizze il preso a 0 nel calcio mercato invernale della precedente stagione ed è arrivato in questo qua e niente quindi questo è quanto ora non ci resta effettivamente cioè in maniera diciamo effettiva però questo non vuol dire che io non possa prendere che cazzo ne so un altro attaccante quindi l'unico ruolo che c'è un po' da sistemare sarebbe quello del terzino-destro vediamo un po' cosa accadrà comunque da qui al 19 c'è spazio ma probabilmente credo che non cambi niente diciamo che ci rivedremo molto probabilmente alla prossima partita che come appunto si vede è con Crystal Palace siamo arrivati alla seconda partita della stagione alla prima partita del video giochiamo per la prima volta in casa per quanto riguarda questa stagione contro il Crystal Palace però prima di iniziare voglio farvi vedere che aveva venduto Clark al Chievo alla fine per quanto riguarda i soldi che sono arrivati in più nel budget ecco vabbè eccole va siamo a 3 milioni e 900 mila euro siamo arrivati a 5 e 5 detto questo iniziamo allora ok così per le maglie si fa vedere ma forse è meglio questa via tra l'altro questa è la partita di soldi sia di Gabriel Barbosa Aka Gabigol e Dembélé quindi vediamo un po' come si comportiranno questi due nuovi entry battono il calcio inizia l'avversario e la partita inizia dai eh bimbi cerchiamo di se possibile conquistare un'altra vittoria e così si andò a perdere speriamo di no vai Bailey Dio Bono bella roba non lo sbagliare Yuri Dio Bono tira ancora seppi lì niente eh dovevi tirare di destra magari di di precisione più che altro vai chiudilo chiudilo non lo fate tirare va bene alla fine non ha fatto go brava Donna Rumma attenzione mamma mia eh l'ha fatto l'ha fatto una bella zettina Donna Rumma non è successo niente vai che lecione no che cazzo fai perché ho tirato così non ho capito se ha o ho tirato ah questo difensore ok lasciamo stare vediamo un po' di Madonna Santa ne vuole entra una dai eh nulla zero a zero occhio mamma mia mamma mia come c'è andata di Ulo meno male l'ha levata chiarata vero qua comunque tenisce il primo tempo zero a zero sicuramente è una partita più equilibrata rispetto alla prima contro la Stoneville e boh vediamo come va il secondo tempo speriamo di riuscire a sbloccarla vai che lecione boom vai Gabriel è ancora lì si presenta così e andiamo di Gabi Cole una zero la sblocca lui attenzione mamma mia il Crystal Palace non ci sta vuole ripariggiare subito ma male Donnarumma l'ha presa vai mamma mia fuori occhio eh bimbi cambio allora i soliti si leva Tillamont per Odegaard si leva beh anzi Dembele stavolta per Cerny e poi smette Marte al posto di Witzel ancora eeeh e questo è Rigori mi ha levato la gamba mentre volevo tirare mi sembra doveroso per minimo Rigori che lecione vai dai ciccio ma che lecione eccoci ancora lì e tira madonna santa di buona sblocca e rigori che lecione ha la buttata fuori pensavo l'avessi parato a portare fosse mannaggia 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 meno male siamo sull'1-0 vai vai che ora non lo sbagliare ciccio chiudila che lecione ha naso la chiude 2-0 eh oh 1 non sbaglio 2 no che lecione non perdona speriamo insomma l'ottantottesimo ci pensa che lecione anche con un po' di fortuna nel passaggio però 2-0 ale finisce proprio così 2-0 seconda vittoria consecutiva vabbè prima vittoria del video bene 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 seconda partita che però non gioco perché perché è di coppa se non sbagliare l'FC Cup dovrebbe essere l'FC Cup dovrebbe essere l'FC Cup comunque è una delle tante partite di coppa che ci sono in Inghilterra si gioca contro il Milu lo fa di casa e la simulo ma va va anche quest'anno sinceramente non mi interessa la coppa almeno per ora 2-0 siamo passati bene perché l'unostanduto fa sempre piacere ed eccolo qua il terzino destro che ho tanto desiderato che finalmente prendo ce la faccio alla grande stavolta di soldi e quindi di conseguenza anche l'unico vero ruolo che magari sembrava un po' titubante che era appunto il ruolo del terzino destro è sistemato quindi di per sé la squadra per me è completa così però chissà dato che comunque abbiamo sempre un po' di budget chissà cosa può succedere da qui alla fine comunque per chi non l'avesse visto il costo del trasferimento è stato diciamo 17 milioni Hugh Gammets che tanto probabilmente faceva anzi avrebbe fatta la muffa o quasi in panchina quindi secondo me è stato anche un buon trasferimento a livello di soldi spesi in senso di offerte in sé per sé Poverle Rhin fra l'altro è giovane 22 anni 81 probabilmente crescerà dell'altro terza partita del video ma seconda partita giocata e fra l'altro terza partita di campionato si gioca fuori casa contro lo Swansea e come già dissi prima per quanto riguardava Gabigol chiamiamolo sì anche se è un nome che sinceramente non piace soprattutto se finché non fa sbarrati gol non è se non mi ha azzeccato e mi sto riferendo alla realtà fino adesso e per Dembélé questa qua è la partita di esordio di Beyerin con la nostra maglia quindi detto questo iniziamo e guardiamo un po' come se la cava anche il ragazzo anche lui con la nostra squadra sperando ci sia sintonia battiamo invece stavolta il calcio inizio noi e la partita inizia dai eh bimbi anzi facciamo toccare subito palla a Beyerin dai toccala toccala ah che sollievo tira bene ebbè non era una posizione adatta per tirare però ci ho voluto provare magari la prendeva meglio vai Uri eh no porca tre contro due va a dire che bisognava buttarla dentro e di veramente po' addio 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 boh me va lui boh me va lui la vanè eh Ameriani eh le cani comunque meno male hanno sbagliato il gol e niente finisce il primo tempo 0 a 0 per nostra fortuna perché comunque anche se abbiamo svelato a volte rischiato di far gol stavolta hanno rischiato di farlo loro si è rischiato di prenderlo camorosamente e niente e non si lascia buttare dentro una peccato perché però creiamo tanto dicchio bono di peccato vabbè era un buon tiro il problema è che era troppo quasi centrale cambio ora si guarda ma andai che la palla va fuori comunque facciamo così Odegaard Cerni è classico oramai Amartey è un posto di vizie vai niente stavolta si pareggia però peccato perché sono due punti persi perché potevamo buttarne dentro almeno una abbiamo creato tanto non abbiamo concesso niente e potevamo solamente vincerla purtroppo per noi però è andata così allora siccome prima è partito Clark ho detto mi serve almeno un sostituto al suo posto prendo un altro difensore tranquillo niente di eccezionale quindi mi limito a prendere solamente Zuma il mio straforte è straforte cresce uno sbotto poi niente provavo volevo provare a prendere in bollo però in bollo c'è un problemone come è successo già nel precedente calciomercato lo voglio prende ma poi non mi bastano i soldi perché ero indeciso se prende Zuma o Embolo però Embolo diciamo era secondario infatti detto se mi accenta tutti due preferisco Zuma Embolo perché di per sé diciamo Embolo sarebbe stata una riserva di in primis Dembélé ma anche di un attaccante dato che Embolo può giocare sia AD che ATT invece Zuma chiaramente prenderebbe il posto di Mbemba che diventerebbe chiaramente una mega super riserva perché c'è 81 e una riserva con 81 non è per niente male quindi il perché eccolo qua comunque abbiamo preso Zuma quindi direi di metterlo già titolare il ragazzetto c'è 82 eh e dici non è che ci abbia mille in più di Mbemba però posso garantire che diventa più forte però l'altro non so se hanno la stessa età fa vedere no Mbemba anche ne hanno più vecchie vabbè cambia di poco 22 23 però questo è quanto quindi niente ho preso anche lui tanto così per prendere qualcuno la difesa è veramente forte comunque fra l'altro è giovane cioè la media 22 22 21 23 quindi medio di 22 anni la difesa che c'ha più di 80 boh va bene abbiamo venduto steriche con tutto rispetto non so nemmeno chi sia però vabbè così appoglio tanto per vendere qualcuno è arrivata una offertina per chi rifiutarla no e così si conclude il calcio mercato estivo qualcosina come avevo detto è successo credevo che magari riuscesse a vendere qualcun altro almeno un altro giocatore alla fine lo potesse acquistare invece no comunque io direi che riguardiamola direi che tutto sommato non è che sia una rosa così scarsa cioè ragazzi a parte ora Bailey vabbè fino a prima io nascio cioè ci sa una squadra che è c'ha la media dell'80 e più e ci sa anche una discreta panchina se si va a vedere tutto secondo me vi do la verità io in questi due anni che faccio che ho deciso di fare la serie sulla modalità carriera credo che questo calcio mercato qua sia stato quello più non più bello però più giusto perché tutte le volte parto con l'idea di prendere da scazzo di prendere un esterno destro e poi o prendo altri giocatori sia a caso o perlomeno comunque non vado alla fine magari a prendere un esterno destro o valido o peggio ancora non lo prendo però magari prendo tutto fuorché l'esterno destro invece stavolta bene o male anzi senza bene o male ho stavolta ho preso proprio i giocatori che riguardavano cioè che erano diretti interessati per quanto riguarda i vari ruoli che avevo deciso di sistemare o rivedere come ad esempio l'esterno destro perché turbi anche se non è ad non è che ci stonasse così tanto e fosse così scarso per quanto riguarda il gioco che avevo però invece bene o male appunto alla fine ho preso tutti i giocatori che volevo prendere per quanto riguarda i ruoli prefissati ovvero un attaccante da fiancare a nacio con la venta di colerea un esterno sinistro dato che beh Azzo non c'era più soprattutto un terzino destro poi anche se non ce l'ha bisogno però questo è stato sempre più il fatto di risistemare appunto l'esterno destro e il difensore centrale con i giocatori decisamente più forti e molto più promettenti quindi se non è stato il calci mercato più giusto che ho fatto quindi sono molto soddisfatto di me stesso poi anche il discorso anche se l'avevo già preso comunque il discorso del centrocampista difensivo insomma bella roba davvero sono molto contento di me stesso quindi niente detto questo questa è la rosa avete visto sia in questo video e anche perché l'ha seguito anche il video precedente come sono state le cose anche a livello di vendite niente siamo arrivati al settembre non c'è la prima partita chiaramente il prossimo video va direttamente al giorno della partita e niente quindi conseguenza devo concludere il video perché per ora sta andando così a parte il calci mercato si va poi di mese in mese quindi bisogna iniziare tutto a settembre detto questo spero che anche voi comunque possiate aver trovato il calci mercato interessante e giusto e niente l'unica osa purtroppo su alcune persone che in privato hanno dei consigli diciamo che alcuni con i consigli li ho potuti diciamo intraprendere scegliere altri no perché purtroppo sia a livello di budget che di ruoli comunque magari non c'è la possibilità però non è stato tutto vi ringrazio ugualmente e niente detto questo arrivo ad avere proprio conclusioni quindi in primis vi ringrazio per la visualizzazione e poi vi ricordo di mettere vai da fare se volete queste tre cose ovvero mettete un bel mi piace al video condividetelo ma soprattutto iscrivetevi al canale vi ho detto questo e vi aspetto al prossimo video ciao grazie a tutti grazie a tutti